Qualche giorno fa il prezzo del petrolio VT è andato letteralmente a 0 dollari, così come ho raccontato in un altro video. Una conseguenza di ciò è stata l'incremento significativo della volatilità del prezzo del petrolio che, ad esempio, ha superato ampiamente quella di Bitcoin. Ora, se avete pazienza un attimo, vi faccio vedere come è andata. Allora, andiamo su TradingView e cerchiamo OVX, perché dovete sapere che questo OVX è proprio l'indice di volatilità a 30 giorni del prezzo del petrolio VTi. Clicchiamo e poi, una volta visualizzata la pagina, apriamo il grafico multifunzione perché è quello che ci consente di fare i confronti. Cliccando sul più, cerchiamo BVOL. Dovete sapere, infatti, che questo BVOL è l'indice di volatilità a 30 giorni del prezzo di Bitcoin. E quindi clicchiamo. Vedete? Abbiamo in blu l'indice di volatilità del petrolio e in rosso quello di Bitcoin. Però questo è il confronto in percentuale. Cliccando qua sotto, invece, facciamo proprio il confronto tra i valori assoluti. E magari andiamo a zoomare solamente nel 2020. Scopriamo che, a inizio anno, la volatilità di Bitcoin era superiore. Vedete? Quella in rosso e quella del petrolio VTi era inferiore. Poi, però, ad un certo punto, attorno alla fine di febbraio e inizio marzo, la volatilità del prezzo del petrolio è andata a raggiungere quella di Bitcoin. Ma, a un certo punto, a partire per l'appunto dai primi giorni di marzo, il petrolio ha iniziato ad avere volatilità maggiore rispetto a Bitcoin. Poi, a dire il vero, il 24 di marzo la volatilità di Bitcoin è tornata a essere superiore. Però poi, nel momento in cui stava scendendo, è capitato il crollo a zero del prezzo del petrolio VTi, che ha portato la sua volatilità a livelli elevatissimi. Mentre quella di Bitcoin è continuato a scendere. Quindi, a partire dal 17 aprile, la volatilità del prezzo del petrolio VTi è salita alle stelle, molto di più di quella di Bitcoin. E ancora oggi siamo a 173 contro 57. Quindi, in questo momento, la volatilità del prezzo del petrolio VTi a 30 giorni è più di tre volte superiore a quella di Bitcoin. Pazzesco, vero? Tutti credono che Bitcoin sia un bene altamente volatile, e questo è vero, ma poi si dimenticano che ci sono sul mercato anche beni tradizionali che, in determinati momenti, sono in grado di avere una volatilità ancora maggiore. Anzi, ancora ben maggiore. Perché il picco che avete visto prima, raggiunto pochi giorni fa, dalla volatilità del prezzo del petrolio VTi, è enormemente superiore al picco di volatilità di Bitcoin che c'è stato durante il crollo di metà marzo. Ah, sia chiaro, eh? Questo vale per il petrolio VTi, quello americano, non per il petrolio Brent, che è quello europeo. A me però questo confronto serve per farvi capire che è vero che Bitcoin ha una volatilità elevata, ma oramai, al giorno d'oggi, non è poi così tanto elevata. È mediamente un po' più elevata di altri asset, ma addirittura in determinati periodi è meno elevata di asset, anche storici come il petrolio, di asset che hanno una lunghissima storia alle spalle e il cui movimento del prezzo solitamente non è che procede per enormi scossoni come invece capita per Bitcoin. Quindi ormai possiamo dire che sul lungo periodo la volatilità del prezzo di Bitcoin è fondamentalmente in linea con quella anche di altri asset tradizionali, solo che mediamente è superiore. Tuttavia in alcuni momenti riesce ad essere addirittura inferiore. Ve lo mostro aggiungendo a questo grafico, ad esempio, l'indice di volatilità dell'oro, che si chiama GVZ. Eccolo, Gold Volatility Index. Come al solito andiamo a prendere non le differenze in percentuale, ma in valore assoluto, e scopriamo che in effetti l'indice di volatilità di Bitcoin è sempre di gran lunga superiore a quello dell'oro, anche se vedete ultimamente la differenza è 29 per l'oro e 57 per Bitcoin, che è meno del doppio, ma come potete vedere anche il petrolio ha nel 2020 sempre avuto una volatilità maggiore e in questo momento rispetto all'oro è veramente enormemente superiore. Se zoomiamo all'indietro scopriamo che questo è un rapporto più o meno che va avanti da molto tempo, cioè anche risalendo indietro nel tempo, si scopre che quasi sempre il petrolio ha un indice di volatilità nettamente superiore a quello dell'oro e in passato, spesso, quasi sempre, Bitcoin ha avuto un indice di volatilità ancora maggiore. Queste differenze si sono ridotte solamente proprio a partire dal 2020, quando vedete che la volatilità del petrolio ha iniziato ad avvicinare quella di Bitcoin per poi addirittura esplodere ultimamente. Certo, Bitcoin è una moneta, quindi dovrebbe avere, per essere utilizzata comunemente, una volatilità ancora inferiore, essere ancora più stabile. Però più passa il tempo, meno Bitcoin viene riconosciuto come mezzo di scambio, più come un investimento, uno strumento per mettersi al riparo dall'inflazione e in questo caso ha un indice di volatilità ormai che non è poi così tanto superiore a quello di altri asset per certi versi simili. Il petrolio non è un asset simile, ma serve tanto per avere un confronto, un paragone e per capire che Bitcoin è sempre di più un asset che fa parte dei mercati finanziari globali e tradizionali. Poi, come al solito, se avete ancora dei dubbi o delle domande, ricordatevi che potete sempre scrivermi via email, perché via email io rispondo sempre a tutti. Solo non fatemi domande sulle previsioni dei prezzi, perché io non sono in grado di farle. Un saluto, ciao!